Oltre 15 milioni di ipertesi in Italia e circa un miliardo e mezzo nel mondo. 280 mila persone muoiono ogni anno per malattie cardiovascolari dovuti alla pressione alta. Oggi, per la Giornata Mondiale contro l'Ipertensione, organizzata a livello nazionale dalla Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa e promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League, l'ospedale Sant'Anna ha proposto controlli gratuiti in Piazza San Fedele, misurazione del peso, girovita e pressione, colloqui con gli specialisti del Centro per l'Ipertensione. E' importante giornate come quelle di oggi, giornate che mirano a aiutare il controllo dei valori pressori perché la risoluzione di questa problematica sta nel controllo, prevenzione. Quindi in questi momenti abbiamo dovuto raddoppiare il numero delle postazioni perché l'affluenza è importante, perché la gente comprende, e forse per la prima volta sempre di più, che l'Ipertensione è un fattore di rischio che, se controllato, non può determinare quelle malattie così importanti e significative come le malattie cardio, cerebro e reno vascolari. L'Ipertensione arteriosa è una delle patologie della civilizzazione che colpisce il 30% delle persone. La sua incidenza aumenta con l'età, infatti ne sono affetti oltre il 65% degli ultra 65 anni. Infarto cardiaco, ictus cerebrale, insufficienza renale sono solo alcune delle malattie causate da questa patologia. Spesso non dà disturbi e i sintomi si presentano solo dopo molti anni. Per prenotare una visita, rivolgersi agli sportelli dell'ufficio Cassacup oppure chiamare il call center regionale al numero 800 638638 da rete fissa o al numero 02999599 da rete mobile.